siamo arrivati a cracovia la temperatura è molto gradevole e non sappiamo dove stiamo andando perché la nostra guida nikla segue google maps ma non lo guarda neanche primo giretto di esplorazione poi subito a mangiare e ci ricambiamo per la sera c'è chi deve perlevare tranquilli ma non si riuscite a cambiare dai non così vicino a europa che si vedevano il naso un viaggio Grazie a tutti Grazie a tutti A Polonia va così Cracovia, dama con vermellino Fa cagare, nel senso che è un dipinto fondamentalmente inutile di surso e provocatorio Ma non voglio neanche vederla, perché era da da Vinci fondamentalmente, parliamoci chiaro, era un grande inventore, quello che vuoi, però a dipingere non è passata la storia per uno dei più grandi pittori di tutti i tempi Ehi, cizio va che la senti, la musichetta della videocamera, ma non si dorme mica, siamo leoni Quindi, si partono? Ma sono tutti pronti? Nuova giornata a Cracovia, ieri se ne è andata molto bene, siamo andati in un locale easy, c'era anche musica minimal, quindi tranquillo Siamo fatti una bella soccata di poche ore, come si fanno in questi casi E oggi sveglia presto, infatti sono solo le 9.20 E in giro per la città a vloggare a Cracovia Siamo carichi, let's go Buona Nico Spettacolo, spettacolo Spettacolo, spettacolo Spettacolo, spettacolo, spettacolo Spettacolo, 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 spettacolo Spettacolo, spettacolo, spettacolo Spettacolo, 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 sp best is always yet to come I tell you and soon it's back to reminiscing what's my liquid non avete offenza chiara 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 fiume di là e ora vedi E qua gli mette il voice over con non sembra che è facile andare a Cracovia Sono l'unico che non ha parlato Ultimo risveglio a Cracovia Oggi c'è il sole, non fa comunque fresco Stiamo raggiungendo gli altri per fare colazione Perché ovviamente quando si fanno questi gruppi hanno tutti freddi Hanno tutti pienissimo a fare le gocce Però dopo hanno tutti freddi per fare colazione Non è vero Quindi ammetto che sempre a fare l'ultimo Perché sono il più gentile, il più disponibile E non fa pressioni in queste cose qui Ultima colazione, poi check out all'ostello Poi si va diretti in aeroporto per arrivare un po' in anticipo Cracovia molto vivibile, carina Belle camminate Si mangia come porceddu Tantissime chiese da vedere Ci sono due o tre attrazioni fuori Che varrebbe la pena Quando si fa qualche giorno in più di andare a vedere Ma è magari venireci non proprio in inverno Forse è il primavera, è bellissimo uguale Grazie a tutti